Un testo diretto ai docenti della scuola media del biennio delle superiori per aiutarli ad insegnare utilizzando i nuovi media. Il volume Media, linguaggi, creatività, un percorso per le scuole è stato presentato al Salone del Libro da Bruno Geraci, presidente di Corecom Piemonte, Loredana Orlandini, dirigente scolastico, e Alberto Parola, docente di scienze dell'educazione. Il testo costituisce una guida pratica per gli insegnanti che possono affrontare le varie materie utilizzando nuove tecniche e coinvolgendo gli alunni in maniera più attiva.